benvenuti a tutti io sono gabriele caselli e quello che state ascoltando è il podcast di state of mind il web journal italiano di psicologia che potete seguire e leggere su www.stateofmind.it questo è il terzo episodio della serie di trasmissioni dedicate al rimuginio e tratto dal manuale di caselli ruggero sassaroli rimuginio teoria e terapia del pensiero ripetitivo edito da raffaello cortino editore oggi parliamo di come interrompere il rimuginio nelle trasmissioni precedenti abbiamo descritto rimuginio come una forma di ragionamento ripetitivo negativo che può avere diverse facce può riguardare preoccupazioni rispetto a eventi negativi che potrebbero capitare nel futuro può riferirsi all'analisi di eventi negativi che sono occorsi nel passato a problemi e sintomi di disagio che infastidiscono la persona nel momento presente o a propri desideri che in realtà non si vuole in qualche misura perseguire questa forma di ragionamento negativo tende a occupare una grande quantità di risorse mentali nelle persone a una serie di conseguenze negative nonostante le persone tendano a perdersi in queste forme di pensieri al fine di trovare una soluzione per i propri problemi più rimuginiamo su contenuti negativi che riguardano il nostro passato il nostro presente il nostro futuro più manteniamo il nostro organismo e la nostra mente in una condizione di disagio di stress di depressione di ansia tanto che se questo rimuginio diventa particolarmente perseverante possiamo danneggiare in modo profondo la qualità della nostra vita il rimuginio è una proprietà in realtà della mente cosciente degli esseri umani e come tale è un'esperienza abbastanza comune tutti noi possiamo ritrovarci in esperienze di rimuginio in una forma o nell'altra ma non tutti noi abbiamo un disturbo psicologico non tutti noi viviamo il rimuginio all'apice delle sue conseguenze negative questo perché la domanda importante su cui ci concentreremo oggi è cosa fa sì che per alcune persone il rimuginio appaia quanto meno incontrollabile o diventi così perseverante al netto di quelli che sono i problemi esterni che una persona sta vivendo sicuramente più le condizioni di vita di una persona sono problematiche più una persona è stressata ma a parità di problemi nel mondo esterno esistono persone che reagiscono con una forma di rimuginio particolarmente perseverante altre persone che invece riescono a mantenere questo rimuginio entro limiti accettabili senza peggiorare le difficoltà che la vita impone loro in buona sostanza quello che ci chiediamo oggi è perché per alcune persone il rimuginio risulta incontrollabile e come si può ridurre la quantità di rimuginio negli ultimi dieci anni la ricerca scientifica nell'ambito della psicopatologia ha mostrato come la convinzione che il rimuginio sia qualcosa di incontrollabile rappresenta il principale predittore della tendenza a rimuginare in modo eccessivo ad adrian wells il padre fondatore dell'approccio metacognitivo alla psicopatologia e alla psicoterapia dobbiamo la maggior parte degli studi rispetto a questo tema l'idea di fondo è che considerare il rimuginio come un'attività mentale incontrollabile sia esso stesso un importante predittore della tendenza a rimuginare eccessivamente ma perché questa convinzione è così importante se penso che rimuginio sia incontrollabile allora in qualche modo sono già in una prospettiva di resa rispetto al rimuginio pensare che qualcosa è incontrollabile ci mette nella condizione peggiore per poter esercitare un efficace controllo la nostra mente è fatta per ottimizzare le proprie risorse quindi non è spinta o motivata a cercare di esercitare sforzi per controllare qualcosa che è percepito come incontrollabile nessuno di noi cerca di applicare sforzi per il controllo del tempo atmosferico considerandolo oramai qualcosa fuori dal suo controllo non cerchiamo di allontanare le nubi dal cielo perché pensiamo di non aver controllo sulle nubi nel cielo se noi avessimo viceversa un qualche pensiero convinzione magica per cui il nostro sforzo potrebbe avere un impatto sulla presenza di nubi nel cielo allora come gli indiani ci dedicheremmo a danze della pioggia piuttosto che a danze tese a scacciare la pioggia dalle nostre giornate facendo un esempio più vicino a quello che accade in terapia se io chiedo a un mio paziente il quale si preoccupa in modo eccessivo di ciò che gli potrebbe capitare in futuro e che a causa di questa tendenza al rimuginio vive in modo estremamente stressante le sue giornate e si sente incapace di poter godere della propria quotidianità perché ha la mente sempre impegnata in questo sforzo ecco se io chiedo a questo paziente quindi se il rimuginio è così dannoso per lei da mantenerle in una condizione di stress come mai non lo abbandona ecco il 99 per cento dei pazienti risponderà perché non ci riesco non ne sono capace quindi capite come l'idea di aver controllo sul rimuginio è un elemento estremamente importante scoprire se effettivamente posso avere in qualche modo controllo sulla mia tendenza a rimuginare rappresenta uno dei centri nevralgici dell'intervento focalizzato a ridurre il rimuginio rispondete tra di voi a questa domanda se scopriste di poter smettere di rimuginare in qualsiasi momento se vi fossero lasciati tutti i problemi quotidiani che voi già avete ma poteste scegliere in qualsiasi momento di abbandonare il rimuginio sui vostri problemi quanta fetta di ansia potremmo ridurre non tutta certo perché vivere in momenti di difficoltà comunque produce uno stato di ansia ma potremmo eliminare una certa quantità di ansia sporca o inutile generata dalla tendenza a rimuginare su problemi che già di per sé sono fastidiosi molto spesso le persone che considerano il rimuginio incontrollabile confondono un automatismo come riflesso incondizionato dall'automatismo come abitudine appresa se rimuginio è diventata un'abitudine appresa la prima risposta della mia mente sarà naturalmente quella di motivarsi ad attivare una forma di riflessione sui pensieri negativi ma il rimuginio è un riflesso incondizionato o è un'abitudine appresa qual è la differenza che un riflesso incondizionato è fuori dal mio controllo avvicino la mano al fuoco sento calore la reazione è quella di allontanare il braccio molto prima che questa informazione giunga alla coscienza dell'individuo un'abitudine appresa invece può essere riportata in qualsiasi momento sotto il controllo cosciente quando noi impariamo a guidare all'inizio siamo estremamente meccanici perché dobbiamo imporre attenzione a ogni singolo movimento e guidare è un'azione particolarmente complessa dobbiamo prestare attenzione a come usiamo la frizione il freno l'acceleratore il cambio la nostra velocità la strada che stiamo percorrendo le altre autovetture la segnaletica stradale una serie di informazioni da integrare contemporaneamente nel momento in cui invece attraverso la ripetizione noi diventiamo abili o il processo della guida diventa in qualche misura un'abitudine appresa ecco procede quasi in autonomia non ha più bisogno che noi lo attiviamo volontariamente che poniamo le nostre risorse attentive su ogni singolo gesto questo non significa però che questo comportamento sia automatico fuori dal nostro controllo possiamo in qualsiasi momento riprendere il controllo del nostro comportamento e cambiare alcune variabili ci spostiamo in inghilterra dove la guida è sull'altro lato della strada abbiamo bisogno di riprendere il controllo dei nostri automatismi per far sì che ci abituiamo in modo differente di certo non pensiamo che per noi sia un cambiamento incontrollabile la stessa cosa può essere applicata al modo in cui reagiamo ai pensieri negativi siamo abituati a reagire ai pensieri negativi iniziando a rimuginarci sopra forse possiamo scoprire che possiamo scegliere di cambiare questa nostra abitudine rispondendo ai pensieri negativi in un modo diverso dal rimuginio cosa significa controllare il rimuginio questa è un'altra domanda centrale per capire come facciamo smettere di rimuginare controllare il rimuginio non significa cancellare i brutti pensieri o le brutte sensazioni dalla mente la nostra mente fatta per fare libera associazioni è fatta per avere le sue sensibilità quindi sulla base di libera associazione di quello che ci succede intorno e della nostra sensibilità produce nella nostra mente più o meno frequentemente certi pensieri automatici che possono essere neutri positivi o negativi se siamo sensibili alla critica è chiaro che certi stimoli produrranno più facilmente per noi che per altre persone pensieri automatici autocritici questo fa un po parte sia del fatto che siamo esseri umani cioè di come funziona la mente fa anche un po parte di come funziona la nostra mente sulla base della storia di stimoli che ha ricevuto nel corso della sua vita cercare di eliminare qualcosa di normale è impossibile oltre che dannoso non possiamo impedire alla nostra mente di produrre dei pensieri negativi molto spesso anzi il rimuginio viene attivato allo scopo di sopprimere certi pensieri negativi con il risultato in realtà di andare contro la natura stessa della mente controllare il rimuginio significa permettere ai pensieri negativi di attraversare il flusso della nostra coscienza senza lasciare traccia senza rispondere in alcun modo molto spesso invece quello che fa il rimuginatore è che nel momento in cui un pensiero negativo attraversa il fiume della mente un pensiero affilato accuminato è quello di immergersi tenerlo fermo impedire che scorra nel fiume della coscienza e iniziare a lavorarci sopra con il rischio di insanguinarsi se noi abbiamo lo scopo di eliminare i pensieri negativi siamo già in una prospettiva fallimentare per la nostra salute mentale controllare il rimuginio significa ignorare i pensieri negativi notarli osservarli vedere che passano nella nostra mente ma trattarli come degli semplici impulsi neurochimici che arrivano a un loro correlato fisiologico in senso di attivazione di disagio di sensazioni corporee fastidiose una morsa al petto un no dalla gola un senso di calore un senso di tristezza qual si voglia emozione negativa ma che poi tendono a regolarsi da soli una volta che noi lasciamo in pace scegliamo di non dare a loro priorità che cosa ostacoli questo tipo di controllo del rimuginio non accorgersi di quanto controlliamo il rimuginio anche le persone che hanno un'altissima propensione al rimuginio esercitano controllo sul rimuginio sembra paradossale ma nessuno rimugina per sempre chiunque ha momenti di rimuginio e momenti liberi dal rimuginio certo cambia la proporzione però il fatto che esistano dei momenti liberi dal rimuginio il fatto che le persone si concedano per esempio di addormentarsi o si concedano di distrarsi in certi momenti allora significa che una qualche forma di controllo sul rimuginio viene esercitata è che le persone spesso non si rendono conto che controllano il rimuginio e se non se ne rendono conto allora è molto più facile che venga mantenuta l'idea che in fondo il rimuginio è incontrollabile e considerare il rimuginio incontrollabile porta le persone tendenzialmente a rimuginare più a lungo quando questo si attiva la domanda chiave è se pensate al vostro ultimo rimuginio com'è che si è interrotto ecco questa semplice domanda rivela in molte persone una propensione a attribuire all'esterno o ad altri fattori diversi dalla propria volontà l'interruzione del rimuginio le persone attribuiscono le cause a fattori esterni e questa sorta di errore di attribuzione mantiene l'idea di non avere controllo sul rimuginio mantiene l'idea che per smettere di rimuginare siano necessarie altre condizioni a questa domanda come si è interrotto le persone possono rispondere beh è arrivata la telefonata di un mio amico che mi ha distratto e quindi ho smesso di rimuginare l'attribuzione dell'interruzione di rimuginio è data a fattori esterni il comportamento degli altri che ci distrae sono gli altri che mi permettono di smettere di rimuginare la domanda è ma poteva continuare volendolo molte persone dicono beh in effetti se mi impegno anche se sono fuori con gli amici posso rimanere chiuso nella mia mente quindi chi è che lo decide la presenza degli amici o una scelta di priorità dell'individuo altre persone attribuiscono l'interruzione del rimuginio a uno stato emotivo di quiete cioè è l'ansia che mi impedisce di controllare il rimuginio quando sono spaventato non riesco a smettere di rimuginare se sono calmo allora posso smettere di rimuginare naturalmente questo genera un circolo vizioso perché rimuginio aumenta l'ansia che impedisce il controllo del rimuginio che fa sì che rimuginio continui che aumenta l'ansia via dicendo ma proviamo immaginarci in una situazione paradossale stiamo rimuginando ci stiamo preoccupando di qualcosa improvvisamente vediamo che nella nostra cucina sta divampando un piccolo incendio un principio di incendio cosa succede all'attivazione la paura la tensione e cosa succede alla nostra preoccupazione ecco la tensione sale la preoccupazione diminuisce il rimuginio diminuisce certo potremmo continuare a rimuginare sui nostri problemi mentre sta andando fuoco alla casa ma non sarebbe l'opzione più utile per noi potremmo farlo perché abbiamo anche quella facoltà di controllo ma quindi esiste una condizione in cui noi possiamo essere molto in ansia o molto tristi e rimuginare per nulla in altre parole siamo noi senza rendercene conto che associamo costantemente il rimuginio o l'assenza di rimuginio a determinate condizioni interne ed esterne e continuiamo a leggere la presenza o l'assenza di rimuginio in relazione a condizioni esterne mai a una nostra scelta personale ci teniamo in una condizione di impotenza le persone non si accorgono che potrebbero rimuginare nonostante quelle condizioni il che vuol dire che potrebbero abbandonare il rimuginio indipendentemente dalla presenza di quelle condizioni posso rimuginare con gli altri posso abbandonare il rimuginio anche senza gli altri questo è importante perché la convinzione sull'incontrollabilità del rimuginio molto spesso è legata a un errore di attribuzione della responsabilità circa l'interruzione del rimuginio noi abbiamo stimati al giorno dai 1500 ai 3000 pensieri negativi non rimuginiamo su tutti chi sceglie su quale è importante rimuginare chi sceglie su quali non vale la pena rimuginare forse il rimuginio è incontrollabile ma forse non ci rendiamo conto di quante volte lo controlliamo senza accorgercene e quindi è estremamente importante accorgerci di quanto stiamo rimuginando e di quando e come abbiamo scelto di smettere di rimuginare in altre situazioni l'idea di non aver controllo sul rimuginio è sostenuta dall'utilizzo di alcune strategie inefficaci per controllarlo per esempio la ricerca di rassicurazioni cerco di eliminare il dubbio e il rimuginio su un potenziale tradimento o menzogna da parte del mio partner esercitando una forma di controllo tesa essere rassicurato prendo la macchina e vado dove lui dovrebbe essere rubo la password e controllo le email all'attività sui social network ogni forma di rassicurazione significa prendere nell'immediato un senso di sollievo ma per verificare di essere rassicurati è necessario cercare delle eccezioni quindi con la mente elaboro dubbi per verificare la rassicurazione ma se elaboro dubbi attivo esattamente quei meccanismi che mi portano a rimuginare la rassicurazione non è altro che l'anticamera di nuovi dubbi alcune persone cercano di non pensare alle cose negative ma cercare di non pensare alle cose negative è proprio come cercare di tenere quei pensieri automatici che descrivevamo poc'anzi fuori dalla porta della nostra coscienza fermare il flusso della nostra coscienza è come se noi fossimo costantemente impegnati a tenere la mano su una porta per lasciarla chiusa impedire a ciò che c'è di là di entrare attraversare la stanza ma così facendo noi rimaniamo in una sorta di costante sforzo il risultato che otteniamo è solo parzialmente efficace il fenomeno del cosiddetto rebound effect del tentativo di soppressione dei pensieri noto da tempo in psicologia col famoso esperimento dell'orso bianco provate provate a non pensare a un orso bianco cosa succede se cerco di non pensare a qualcosa quella cosa ricomparirà in modo più intrusivo più fastidioso nella nostra mente perché perché se devo verificare che non c'è un certo pensiero nella mia mente allora devo scandagliare la mia mente alla ricerca di quel pensiero ma scandagliare una mente alla ricerca di un pensiero che conosciamo implica richiamarlo alla mente stessa e così il circuito si mantiene più cerco di non pensarlo e verifico se non c'è più il pensiero compare e quindi in qualche modo il risultato finale è che sostituisco il rimuginio a una sorta di battaglia mentale con me stessa che è sostanzialmente altrettanto stressante e che non fa altro che alimentare l'intrusività dei pensieri automatici e quindi sostenere l'idea che di fatto non ho controllo sulla mia mente altre strategie inefficaci sono per esempio il consumo di sostanze io bevo alcol così sciolgo le mie facoltà coscienti a tal punto da rendere impossibile il rimuginio molto bene di certo da ubriaco non riesco a rimuginare ma così facendo da un lato attribuisco il controllo del rimuginio è un fattore esterno e quindi non imparo non ho modo di scoprire se posso controllare il rimuginio anche senza l'alcol o indipendentemente dall'alcol secondo se l'ubriacatezza diventa cronica e frequente può creare una serie di problemi secondari anche molto più gravi del rimuginio stesso quindi è come curare un veleno con un antidoto che ha effetti collaterali molto più gravi del veleno stesso allo stesso modo evitare le situazioni problematiche se una certa situazione richiama la mente ricordi negativi non ci vado più se ho paura di non riuscire a passare l'esame rinuncio in questo modo non ho più motivo per rimuginare su un'eventualità o su un ricordo negativo perché non mi espongo alle situazioni che potrebbero evocarlo nella mia mente così facendo però ancora una volta non ho la possibilità di scoprire se sono in grado di controllare il rimuginio una volta esposto a situazioni di difficoltà posso fare l'esame senza preoccuparmene prima posso espormi alla situazione che evoca un ricordo negativo lasciare che navighi nella mia mente senza stare a rimuginarci sopra inoltre l'evitamento implica una graduale desertificazione dell'esistenza è come se io per controllare il rimuginio decidessi di limitare i gradi di libertà che ho nella mia vita rinunciando a piaceri soddisfazioni e anche a scopi che per me possono essere importanti alcune persone quindi in sostanza utilizzano strategie inefficaci o parzialmente inefficaci per controllare il rimuginio che in generale hanno due effetti il primo effetto è che possono produrre tutta una seconda serie di conseguenze negative e stressanti aumentano i pensieri intrusivi creano problemi per esempio l'alcol riducono lo spazio di vita e dall'altro tutte queste strategie sono parzialmente inefficaci perché non ci permettono di scoprire se possiamo regolare il rimuginio indipendentemente da loro se possiamo per esempio evitare di rimuginare esponendoci a situazioni di disagio l'idea che rimuginio sia fuori dal nostro controllo rimane in alcune situazioni se l'alcol non è disponibile non vogliamo ubriacarci se non possiamo evitare alcune situazioni perché sono troppo importanti per noi situazioni in cui non possiamo controllare tutto e quindi il rischio di aver per esempio commesso un errore rimane un dubbio aperto nella nostra mente ecco condizioni in cui queste strategie non possono essere attuate lì ci troviamo di nuovo a fronte di un rimuginio intenso che percepiamo come inevitabile e incontrollabile abbiamo visto che l'idea che il rimuginio sia incontrollabile può essere legata al fatto che le persone attribuiscono il controllo del rimuginio a fattori esterni gli altri oppure i propri stati emotivi a fattori indipendenti dalla propria volontà in altri casi utilizzano strategie di controllo del rimuginio che in realtà sono inefficaci o solo parzialmente efficaci come la ricerca di rassicurazione il consumo di alcol il tentativo di distrarsi o di sopprimere certi pensieri e l'evitamento come possiamo fare per controllare il rimuginio partiamo da il considerare certi pensieri negativi come una telefonata fastidiosa avete presente quando vi telefona qualcuno con cui non vorrete parlare il telefono squilla magari rumorosamente infastidisce anche voi guardate chi è e vedete che è una persona con cui non volete parlare lasciatelo squillare cosa non c'è bisogno di andare a scavare nella propria ferita per poter trovare una soluzione non c'è bisogno di preoccuparsi di bere alcol di cercare rassicurazioni per fare in modo che un dubbio si allontani basta lasciarlo in pace ignorarlo sentirlo ma non ascoltarlo guardate bene è diverso dal cercare di cancellarlo dalla propria mente lasciate che si presenti come una telefonata fastidiosa non avete bisogno di spegnere il telefono in anticipo per ignorare la chiamata che state ricevendo potete lasciarlo squillare scegliere di non rispondere la mente vi tormenterà un po e poi lentamente sceglierà di lasciarvi in pace e badate bene la mente si autoregolerà in questo senso molto più rapidamente di quanto voi possiate ottenere attraverso l'alcol il rimuginio tutte le altre strategie che in realtà danneggiano ostacolano il processo di autoregolazione che cosa succede ai pensieri negativi che lasciati in pace tendono a scomparire le emozioni negative che lasciati in pace tendono a passare ci vuole più o meno tempo a seconda dell'entità ma si regolano in autonomia come addestrarvi a questa prospettiva un piccolo trucco può essere quello di mettere in agenda uno spazio dedicato al proprio rimuginio se avete capito bene scegliete uno spazio della vostra giornata in cui siete liberi a disposizione del vostro rimuginio 20 minuti mettetele in agenda o su qualsiasi calendario telematico quello è il vostro spazio per il rimuginio se durante la giornata vi accorgerete di essere persi in una qualsiasi delle forme di rimuginio su un qualsiasi contenuto per voi più o meno importante potete dirvi semplicemente questo è un tema da riprendere nel mio spazio di rimuginio e rinviare la vostra propensione a occuparvene in quel momento lasciando che lo stato d'animo e i pensieri negativi rimangano come rumori sullo sfondo della vostra giornata non sarà facile all'inizio ma provateci quando arriverà l'appuntamento con il vostro rimuginio allora potrete dirvi bene quali sono i temi su cui voglio rimuginare oggi se lo ritenete ancora opportuno beh potete dedicarvi quei 20 minuti a riflettere sulle vostre preoccupazioni se lo ritenete ormai superfluo beh potete rinviare semplicemente all'appuntamento con il vostro rimuginio del giorno successivo anche oggi abbiamo finito qui grazie a tutti voi da gabriele caselli